Il Cundown è iniziato, solo sette giorni, al Via di Lucca Comics & Games 2015. Si lavora senza sosta per allestire in tutta la città le tensostrutture che ospiteranno i comics durante i quattro giorni di festival. Molte le novità previste per quest'anno, soprattutto per quanto riguarda l'ubicazione di alcuni padiglioni. Ci sarà il debutto della Cavallerizza, che dopo il restyling che l'ha interessata nell'ultimo anno e attuato dall'amministrazione con fondi Pius, diventerà un campo di battaglia dei partecipanti al videogioco League of Legends. Altra novità riguarda il baluardo San Donato, che ospiterà il palco di music and cosplay per gli eventi musicali e che si è spostato dal baluardo di San Paolino. Fino ad ora sono stati venduti circa 100.000 biglietti e il picco di partecipanti è previsto per la terza giornata del 31 ottobre. Nella puntata di venerdì sera dello speciale TG Noi si parlerà proprio di Lucca Comics & Games 2015, degli eventi di questa edizione, ma anche della viabilità stradale e della sosta, che nei giorni del festival subiranno delle modifiche importanti.